In una terra lontana nacque una stella. Il suo nome era Micaela de Prince. La Sierra Leone era la sua casa. Era una bambina brillante e bella, piena di vita e di risate. La vita allora era semplice, piena del calore della famiglia e della vibrante cultura della sua patria. Nessuno avrebbe potuto immaginare che questa bambina custodisse dentro di sé un destino, un destino che avrebbe toccato innumerevoli vite. Il mondo può cambiare in un istante. La guerra scoppiò in Sierra Leone. La pace e la felicità andarono in frantumi. Gli orrori della guerra toccarono tutti, anche bambini innocenti come Micaela. Tragicamente Micaela perse i suoi genitori. Era solo una bambina, sola e spaventata. Si ritrovò in un orfanotrofio. Fu un periodo buio e difficile, ma anche nell'oscurità un barlume di speranza sopravvisse. Un giorno una folata di vento soffiò a una rivista nell'orfanotrofio. Micaela la raccolse. Sulla copertina c'era la foto di una bellissima ballerina. Era elegante e aggraziata, in equilibrio sulle punte. Sembrava sfidare la gravità. Micaela ne fu rapita. In quel momento qualcosa si mosse dentro di lei. Un sogno iniziò a mettere radici. Voleva danzare, provare la libertà e la bellezza che vedeva in quell'immagine. Il destino aveva un piano speciale per Micaela. Nata in Sierra Leone durante una guerra civile, ha affrontato difficoltà inimmaginabili fin dalla tenera età. Ma il suo spirito indomabile non si è mai spezzato. Un'amorevole famiglia americana scelse di adottarla, vedendo in lei una luce speciale. Nonostante le cicatrici del passato, Micaela trovò speranza in questa nuova opportunità. Le diedero una nuova casa, un posto dove si sentiva al sicuro e amata. La famiglia la circondò di affetto e supporto, aiutandola a superare le sue paure e a costruire una nuova vita. Finalmente, Micaela ebbe la possibilità di guarire e sognare di nuovo. Con il tempo iniziò a credere in se stessa e nelle sue capacità. La sua nuova famiglia riconobbe la sua passione per la danza, un talento che aveva mostrato fin da piccola. Videro il potenziale in lei e decisero di coltivarlo. La iscrissero a lezioni di danza classica, dove Micaela poté finalmente esprimere se stessa attraverso il movimento. Ogni lezione era un passo verso la realizzazione del suo sogno. Fu un sogno che si avverava, un'opportunità di trasformare il dolore in bellezza. La danza divenne il suo rifugio, un luogo dove poteva essere libera. A ogni passo Micaela iniziò a trovare la sua voce, a scoprire chi era veramente. La danza le permise di esprimere emozioni che le parole non potevano descrivere. La danza divenne il suo santuario, un luogo di pace e forza. Con ogni movimento, Micaela non solo raccontava la sua storia, ma ispirava anche gli altri a credere nei propri sogni. La sala da ballo divenne il rifugio di Micaela, un luogo dove poteva sfuggire al dolore del passato. Attraverso il movimento trovò la guarigione. Con ogni plie e pirouette esprimeva la sua resilienza. Il suo talento naturale era innegabile. Possedeva una rara combinazione di grazia e atletismo, ma soprattutto danzava con il cuore. La sua passione e la sua determinazione trasparivano. La vita aveva lanciato a Micaela un'altra sfida. Aveva la vitiligine, una condizione che causava la perdita di pigmento in alcune zone della sua pelle. Alcune persone erano crudeli. La giudicavano perché era diversa. Ma Micaela si rifiutò di essere definita dal suo aspetto. Abbracciò la sua unicità. La sua vitiligine divenne un simbolo della sua forza. Dimostrò che la bellezza si presenta in tutte le forme. Il talento di Micaela non poteva essere ignorato. Eccelleva nel suo percorso di studi. Si guadagnò un posto ambito nella prestigiosa Jacqueline Kennedy Onassis School dell'American Ballet Theatre. I suoi sogni si stavano avverando. Dopo la laurea entrò a far parte del Dance Theatre of Harlem. Era una stella nascente. Le sue esibizioni affascinavano il pubblico. Danzava con potenza ed emozione. Il mondo la stava notando. Nel 2016, la stella di Micaela brillò ancora più luminosa. Fu scelta per esibirsi nel video musicale Freedom di Beyoncé. Fu una potente dichiarazione sulla giustizia sociale e sull'emancipazione. L'esibizione di Micaela fu indimenticabile. Il video divenne un fenomeno globale. Milioni di persone sono state ispirate dalla storia di Micaela. Usò la sua piattaforma per denunciare le ingiustizie. Diventò un modello per i giovani di tutto il mondo. Il viaggio di Micaela da orfana di guerra a stella internazionale del balletto ha toccato innumerevoli cuori. La sua storia è un esempio di come la determinazione e la passione possano superare qualsiasi ostacolo. Micaela ha iniziato la sua vita in condizioni difficili, ma ha sempre avuto un sogno. Diventare una ballerina. Con il supporto della sua famiglia adottiva e la sua incrollabile dedizione, ha trasformato quel sogno in realtà. È stata coautrice di un'autobiografia intitolata Taking Flight from War Orphan to Star Ballerina. Questo libro racconta in dettaglio il suo incredibile viaggio. Dalle difficoltà incontrate durante la giornata.